Tarab, Tarab, e qua mi insulterebbe, non lo so, io vi dico che per me tecnicamente è più forte di... Anche secondo me. Ma vaffanculo. Anche secondo me. Damia, Damia, è una roba che non puoi capirla. Ma ragazzi, ma Neymar, ragazzi, ma stiamo scherzando. Le cose che ha fatto. Allora, Neymar, Neymar, che è mio amico, lo saluto. Lo saluto. Il nome del bene della Madonna. Ma è troppo forte. Neymar è un fenomeno assoluto. Non c'è niente da dire. E non si possono paragonare Neymar e Tarab. Ci mancherebbe altro. Ma se parliamo solo di tecnica, ragazzi, Tarab è più forte. Te lo giuro.